A come Adesso tocca a me B come Bisogna andare sui rom C come Ma ci vado io a procura Ma con un bastone però eh Grazie D come Da un pizzo all'aniale E come E' logico che la Svizzera non fermerà Nessun accordo con l'Italia F come Fare un muro con l'Italia G come Galera almeno per dieci anni H come Ehm A B C A B C L'alfabeto è questo qui A B C A B C L'alfabeto è questo qui I come L'Italia tecnicamente era fallita Era a livello argentina Le come Libertà di stampa M Ministero pubblico a cagare Va bene? No Non avete nulla Non avete le infrastrutture Non avete gli ospedali Non avete le scuole O come Oltre quelli allora ci difenderemo F come Passione americano Già Q come Qui è ora di finirla R come No devono andare in Romania A B C A B C A B C A B C L'alfabeto è questo qui A B C A B C A B C L'alfabeto è questo qui S V come Siete tutti incanalati così T come Tiratelo fuori dalla testa Ma certo U come Un contorno dice terrone a un altro V come Vado avanti a stampare il mattino Che voglio Z come Ecco l'alfabeto Ora tocca a te Vado avanti a stampare il mattino